Ah, ma quando arriva Pippo, scusate. Ah, eccolo. Ciao Pippo, come stai? Che è nata di merda, eh? Vabbè. Bene. Mazza Pippo, mi sembri riccato di quarant'anni, ma che ti è successo? Che? Senti, ce lo prendiamo un caffè? Ah, niente. Vabbè, manca i soldi per il caffè, avete? Siete proprio messi male, eh? Proprio pezzo al culo, avete? Sì, guarda Pippo, per me è un periodaccio questo. Con la storia che acciughi in Allegri rischia di far triplete, qua io rischio di far figuraccio. Ne parlo con te perché so che con acciughi in Allegri veravate un po' presi, no? Ah, veravate menati proprio. Eh, ti capisco, ti capisco. C'ho un'invidia addosso, guarda Pippo, che hai più che agghiacciante. Ma veniamo a noi. Io sto qua perché mi ha chiamato Gagliani che mi ha proposto di venire qua ad allenare Milan. Ti dico, io in nazionale mi rompio i coglioni, non ce la faccio più. Allora sono venuto qua, vedete come state messi. Ti dico, per come sto messo io allenerei pure Ale, caprò, che a casa non c'ho più voglia di stare, eh? Ti dico, basta che siano un minimo decente, che sappiano dare due calci alla palla e io accetto. Portami a vedere ragazzi, dai. E questo chi è? Abbiati? Ah no, è troppo giovane per essere abbiati. Ah, ecco i ragazzi, eccoli. Ah, si stanno allenando, bene. Senti Pippo, fa una cosa, presentami quelli più forti, quelli più importanti, su cui costruire una base. Così li valuto subito. Piacere Antonio Conte, piacere. Antonio Conte, il miglior relatore del mondo Antonio Conte. Antonio Conte, il miglior relatore del mondo, sono io, ecco. Buongiorno, state, state, state pure, che adesso vi do un'occhiata. Buongiorno, ecco questo, questo fa cacare, si vede subito. Fa cacare pure questo, eccolo qua, abbiati, stai, stai, stai lì che non ti chiamo neanche per sbaglio. Questo non lo posso chiamare, che sennò sta vecchio e si incazza, te nemmeno. Godi Montari, eccolo qua, era fuori, eh? Piacere, piacere. Fa cacare pure questo, questo fa come cammina, niente, fai cacare, ciao. Questo, scarso pure lui, fa cacare, questo manco lo saluto, che tanto. Scarso, 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 niente, niente. Poli, eh, polifunzionale, questo è con la barbetta. Borriello 2, ritorno. Alex, eh, Alex, giusto il nome di Del Piero, c'hai, eh, che coi piedi manco lo sbaglio. Essien, 50 anni per gamba, questo un bambino, questo chi è? Farà cacare pure lui, apposto. Ah, pure le donne avete, eh, piacere, signorina, piacere, piacere. Niente, fa cacare, madonna mia che brutta cosa, mamma mia che roba. Ecco il faraone, eccolo qua, la mummia, altro che il faraone. Va come i barcolla, va, occhio che ricade nel sarcofago, va, che fa una partita all'anno, questo. Mamma, vedo la ritorno a casa. Che ore sono? Le 12, 14 sul campo, perfetto. Voi ora, fammi dare una sistemata. Ecco qua, da sotto, guardali. Ma come cazzo si va a essere così scarsi? Cioè, qua stanno al Milan, stanno. Ai tempi due manca la Vidervese, giocavano questi, eh. E poi come cazzo si allenano questi? Guarda questo dietro di me che fa con le gambe, guarda. Aspetta, aspetta, ci dà, eh. Non mi giro io, guarda. Una foca, sembra. E guarda, Pippo, come sta invecchiato. Mi fa pena quasi. Pippo, ma chi cazzo te lo fa fare di sta qua? Va a casa, che è meglio, va a casa. Oriale, io te lo dico, eh. Piuttosto che venire qua a allenare, io me ne sto inazionare la vita, eh. Senti, ma ti posso fare una domanda, Lene? Ma per cazzo, ma hai fottuto il parrucchino, ma hai fottuto... Cazzo, siamo uguali, vai che roba. Eh, sì, sì, fa vita di niente, vai, ordina l'acqua, eh. Vai che c'ho il copyright sul parrucchino, eh. Eh, fa vita di niente, sì, bevi, bevi. Intanto il parrucchino me l'hai fottuto, eh. Bravo, bravo. Ma che roba, i denti ci siamo. Sembrano gemelli, sembriamo. E voi a casa, seguite l'autogol su Facebook e cliccate mi piace alla loro pagina. Lene, il parrucchino, ridamelo, dai. Arrivi.